Una scrivania, magari ancora di legno, però progettata magari al computer, un tablet su cui scrivere, prendere informazioni e leggere, e una lavagna elettronica, interattiva e multimediale. Sembrano una stanza normale, sembrano le normali apparecchiature, e in realtà sono apparecchiature connesse, sono apparecchiature digitali, che piano piano stanno cambiando il significato degli ambienti in cui viviamo, stanze, di casa, oppure aule scolastiche, oppure uffici. Di questo parleremo qui a Non è mai troppo digital, un programma di telefriuli per il comune di Udine, dove tratteremo delle piccole, brevi pillole di alfabeto informatico e competenze digitali, perché vi è una differenza, è come quando facciamo la patente per l'automobile, ci raccontano, ci insegnano come è fatta l'automobile, il motore, i freni, le luci, e questo è il computer, ma ci insegnano anche a comportarci sulla strada, cioè ci mostrano il codice della strada e come bisogna comportarsi noi in presenza di altre persone, in un luogo sociale, perché quello in cui noi oggi abitiamo è il web 2.0, cosiddetto, ovvero il web partecipativo. Il computer, lo sappiamo, ha già molti anni sulle spalle, nasce nel secondo dopoguerra, però fino agli anni 70 era grande come una stanza, era appannaggio dei centri di ricerca, delle università. Con il microprocessore nei primi anni 70 nascono i personal computer, nascono persone che si incontrano nelle cantine per raccontarsi questa nuova rivoluzione digitale, nasceranno da lì a poco appunto i personal computer, i sistemi operativi, Steve Jobs e Bill Gates, personaggi famosi. Subito i computer sono stati in qualche modo tra di loro collegati, almeno 40 anni fa con una connessione diretta, prima due, poi quattro, poi otto computer, hanno creato le prime reti dei centri di calcolo, di elaboratori elettronici. Subito sono nate anche gli aspetti sociali, cioè far chiacchierare fra di loro le persone, l'invenzione della chiocciola come indirizzo di una persona, le baccheche elettroniche su cui poter scambiarsi informazioni e contribuire in questo modo allo scambio della conoscenza, che era il motivo per cui i computer sono stati fra di loro collegati. Questo è già internet, però ho a che fare con una pagina, una schermata, un mondo, fatto tutto di testo e la cosa complicata era proprio collegare fra di loro i testi archiviati su diverse macchine, su diversi computer. Per fare questo bisognerà aspettare il 1990, quando Berners-Lee, al CERN di Ginevra, Carlo Rubbia era il direttore, ha regalato all'umanità due invenzioni molto importanti eppure molto semplici, cioè l'HTTP, il protocollo di trasferimento ipertestuale, che tuttora troviamo negli indirizzi dei siti web e l'HTML, cioè il linguaggio con cui noi scriviamo sopra le pagine web. A questo punto diventava possibile, intanto, riempire le pagine in maniera grafica, con dei colori, con delle immagini, ma soprattutto, per via del collegamento ipertestuale, collegare fra di loro i documenti che potevo trovare online e creare in questo modo un'unica rete di documenti condivisi, sempre facilmente ricercabili, in quanto pubblicati sul web. Pian piano le informazioni si sarebbero accumulate in maniera spropositata, eccessiva e a metà 90, infatti, nascono i primi motori di ricerca, Yahoo, Alta Vista, i primi, poi Google, molto più efficiente per alcune sue invenzioni che ne hanno decretato il successo planetario. Cercare qualcosa su Google è molto semplice, in realtà, il funzionamento è tramite parole chiave, sono le stesse parole chiave del linguaggio naturale che noi utilizziamo ogni giorno. Cercando, ad esempio, qualcosa che riguarda Udine, i musei di Udine, sarà sufficiente scrivere Udine Musei e trovo una nutrita lista di risposte, di indicazioni, ognuno di quali, ognuno di questi collegamenti manda un sito pertinente, secondo la ricerca che ho effettuato, in questo caso, musei che riguardano Udine e le peculiarità turistiche che la città può offrire. Oltre alla funzione di biblioteca, per così dire, che Internet svolge come archivio dei saperi, delle conoscenze, dei documenti, fin da subito si è notato come, in realtà, Internet serve per connettere fra di loro le persone. Internet è un luogo caldo, è fatto di esseri umani e non di semplicemente macchine che fra di loro si collegano. Quindi, fin dagli anni 80, prima ancora del WWW, del World Wide Web, avevamo dei forum di discussione, delle baccheche elettroniche. Abbiamo avuto negli anni 90 lo sviluppo di luoghi per la discussione tematica, secondo certe regole di funzionamento delle tematiche, attraverso la posta elettronica. Abbiamo avuto l'invenzione delle chat, cioè la comunicazione in tempo reale tra persone partecipanti nella stessa stanza che potevano chiacchierare fra di loro sugli argomenti preferiti. Un giro di boi importante è stato nei primi anni del 2000 l'invenzione delle piattaforme per i blog, che sono dei luoghi di pubblicazione personale che ognuno di noi può avere in rete, soprattutto nel caso in cui debba pubblicare qualcosa di abbastanza corposo, un ragionamento, un documento un po' argomentato. Tutto questo sarebbe arrivato sui social network, come all'inizio era MySpace per la musica, oppure YouTube per ospitare i video del 2005, ricordiamo Facebook, il più noto social network anche del 2005 con un successo planetario, in Italia in particolare verso il 2008-2009. I social network sono visibilmente dei luoghi sociali, si creano le amicizie, ho una bacheca personale e trago conversazione, racconto, mostro, pubblico, innesco una socialità su web, che è quello che oggi noi tutti quanti facciamo anche grazie soprattutto agli strumenti mobili, dispositivi mobili di connettività. Noi arricchiamo la rete ogni giorno, utilizziamo il web per pubblicare foto, testo, immagini, audio, video, quello che ci riguarda, su qualunque tematica, ma facendo questa cosa ultimamente ci aspettiamo appunto sui social che arrivino dei commenti, qualcuno a cui è piaciuto i contenuti che abbiamo pubblicato. Questo però rappresenta già l'aspetto sociale appunto del web di cui parleremo nelle prossime puntate. Tutti questi argomenti e molti altri saranno affrontati il 6 e il 7 dicembre a Udine nel corso di un convegno che si chiama Udine Smart, che oltre a mostrare la città connessa come noi stiamo vivendo oggi, mostrerà anche quali sono le peculiarità dell'abitare in rete, quindi i meccanismi, i dispositivi di partecipazione civica che i cittadini hanno rispetto alla pubblica amministrazione, rispetto alle imprese e a tutti gli attori sociali del territorio.